magic picture ricordati i lucchetti si sbloccano con nove codici numerici trovato il codice ricordati di inserirlo negli appositi spazi nei tabelloni principali felicità se non riesci a metterlo tu cosa vuoi fare chiedere aiuto e a chi a te no ad angela no ne hai ancora andrea edoardo vabbè quale quale deve inserire come vedete in alto abbiamo circa un'ora un'ora per uscire dalla stanza se non riusciamo a uscire dalla stanza in questa ora rimaniamo bloccati per sempre virtualmente ovviamente e e e e e